Lei è stato a Roma in questi due giorni, ci puoi dire se ci sono temi particolari su cui ha avuto colloquio? Io credo che la novità più significativa è il vertice che ha messo insieme al Campidoglio la sindaca di Roma, il sindaco di Milano e il sindaco di Napoli. Parliamo delle tre grandi città italiane, tre grandi aree urbane, milioni e milioni di abitanti senza contare i turisti e i viaggiatori che attraversano queste città. Dove tre città diverse, tre sindaci diversi, tre movimenti politici diversi hanno convenuto di presentare, e oggi c'è una riunione tecnica tra i capi di gabinetto a Roma, una proposta di legge al Governo, Ministro Boccia e Presidente del Consiglio, della vera autonomia, che è l'autonomia delle città, mettendo al centro in particolare elementi fondamentali per la vita delle nostre comunità, che sono i trasporti, il diritto alla casa, il diritto alla scuola, lotta ai cambiamenti climatici, ambiente e riserve idriche. Quindi saremmo nei prossimi giorni già pronti con una proposta normativa, ovviamente lancia informata, credo che sia un passaggio importante e anche una novità politica che dimostra come c'è un'Italia che vuole avanzare con coesione e non condivisione, pur tra le differenze. Poi abbiamo avuto una serie di incontri di altro tipo, anche molto significativi, uno ve l'ho citato, è quello con il Ministro del Lavoro, ho incontrato il Ministro per il Sud e per la coesione, con il quale ci vedremo lunedì a Bagnoli, dove c'è l'inizio effettivo della parte più importante, della bonifica con la rimozione dell'Eternit, il Consiglio Nazionale del Lanci, insomma e tanti altri incontri assolutamente significativi, ho avuto modo anche di incontrare a lungo il Presidente della Camera, quindi insomma saranno 24 ore e altri incontri importanti.